Passeggiata Valentino nuovamente sotto i riflettori che ancora una volta illuminano zone impietose di uno dei simboli per eccellenza di Castellaneta. Camminare lungo la strada sottostante la passeggiata potrebbe infatti riservare brutte sorprese, come è successo due giorni fa ad un cittadino che mentre passeggiava è stato sfiorato da un calcinaccio staccatosi dal bordo a sbalzo su cui poggia la lunga ringhiera. Ad oggi i calcinacci e altri pezzi di intonaco giacciono ancora lì, nel primo segmento della passeggiata. E se quanto successo ha interessato una parte le cui condizioni sono certamente migliori rispetto al resto della lunga passeggiata, complici gli interventi di ristrutturazione effettuati con il rifacimento della Villa De Gasperi, la situazione peggiora percorrendo i metri successivi. Una situazione peraltro già denunciata lo scorso marzo, quando il pericolo stabilità della passeggiata, sollevato da numerosi cittadini, aveva avarcato la soglia di Palazzo di Città. In quell'occasione il vice sindaco Cellamare aveva annunciato di lì ad un mese e mezzo l'azione di un progetto di riqualificazione dell'intera passeggiata, considerata una priorità dell'amministrazione. Dopo più di due mesi però, nulla sembra essersi mosso, se non l'intonaco che continua a sfaldarsi.